Primo sequestro di MDMA, la droga dell'amore, nel Cilento. I carabinieri della compagnia di Sapria, gli ordini del capitano Francesco Fedocci, stanno indagando per risalire al giro che l'ha condotta sul territorio cilentano. A scovarla i carabinieri della stazione di Camerota, guidati dal maresciallo Carelli. Era nell'auto di un ventenne di Ciampino, in vacanza a Marina di Camerota, che nel suo veicolo aveva trasferito la sua dimora, appoggiandosi e dormendo lì, durante i giorni di permanenza, nella località Balneare. Il giovane, che è risultato essere figlio di un noto architetto romano, un insospettabile insomma, è stato fermato e perquisito in località Castello. Nella sua auto, quasi 40 grammi di questa sostanza sintetica potentissima, la MDMA, alcuni grammi di hashish, due coltelli, un bilancino di precisione, 550 euro e tre petardi usati per segnalare l'arrivo della droga. Il pusher è stato tradotto presso il carcere di Vallo della Lucania. Intanto hanno le ore contate i ragazzi che hanno aggredito un 29enne di Foria di Centola al molo di Marina di Camerota. La donna, a cui risulta intestato lo scooter a bordo del quale è scappato il giovane che ha usato il coltello, sarebbe collegata ai ragazzi in questione e le indagini dei carabinieri stanno stringendo il cerchio attorno ai responsabili per poterli identificare. In 4 o 5 sarebbero stati beccati a salire sulle barche a Marina di Camerota dal 29enne, ma solo uno di loro si sarebbe alterato dopo essere stato scacciato dal ragazzo e lo avrebbe attinto con un coltello al costato. Il giovane ora sta meglio e ha già ripreso a lavorare nella ditta di noleggio barche presso cui è impiegato.